francamente speravo di presentarmi a voi esultante dicendo che sì mi erano arrivati i colpi di fortuna che mi aveva predetto l'oroscopo di su internazionale come vi avevo accennato il letto alcuni giorni fa ahimè il 10 di settembre è passato non ho avuto nessun colpo di fortuna nessun segnale di qualcosa di particolarmente fortunato certo la speranza è l'ultima a morire però è anche certo che forse gli oroscopi anzi è sicuro che gli oroscopi sono quella fiaba quotidiana o settimanale che ogni tanto ci vogliamo sentir raccontare ma che in fondo in fondo non non affondano le loro radici su quella che è la realtà della vita di tutti i giorni a Grazie a tutti.